E niente, sto passando un periodo molto felice della mia vita perché il mio ragazzo mi ha chiesto di andare a convivere e finalmente sono uscita di casa, non che stessi male con i miei genitori, solo che mi trovo spesso a vivere delle situazioni un po' imbarazzanti sin da piccolina. Infatti ogni volta che guardavo un film con i miei e partiva una scena di sesso, io diventavo rossa, mi imbarazzavo tantissimo e gli dicevo scusate ma almeno aspettate che finisca il film per fare certe cose. Comunque adesso convivo, finalmente, e la convivenza è una cosa molto romantica, molto bella, anche se litighiamo spesso, lui si lamenta di come tengo la casa. Io non sono proprio una casalinga modello, non sono molto esperta di pulizie, credo che se mi chiedesse a terra un sacco di segatura io rimedierei vomitandoci sopra. Pulisco con una scopa vecchissima che ha la spazzola completamente corrosa così non riesco a spazzare bene la polvere, allora cosa faccio? Io mi limito a dare delle mazzate forti sul pavimento nella speranza di tramortire qualche acaro. La nostra vicina di casa è una signora molto anziana che per fortuna non è mai venuta a lamentarsi di tutto il casino che faccio, ma d'altra parte neanche io sono mai andata da lei a lamentarmi delle mosche e dell'odore di cadavere che da mesi arrivano da quell'appartamento. A parte questo però la convivenza va bene, è una cosa bella. Però quando convivi cosa fai? Frequenti le altre coppie, guardi il fidanzamento da fuori e ti rendi conto che il fidanzamento è il regno della noia. Ma quanto sono noiosi i fidanzati che fanno tutto in simbiosi, si aprono il profilo Facebook di coppia, le donne addirittura si appassionano di calcio, imparano i termini tecnici, iniziano a parlare con frasi tipo Amore, oggi abbiamo giocato un derby che era proprio, eh, com'era? Era un derbone proprio, derbone, abbiamo! Ci sono quelli dell'Isis che muoiono dalla voglia di riconoscere i diritti alle donne ma non lo fanno perché hanno paura che diventino come noi! Signori, uno sport da donne, uno sport da vere donne è la box, la box maschile. Io vado spesso a vederla perché mi fa sentire figa, mi fa sentire desiderata perché io li guardo ed immagino che si stiano menando per me e gli parlo anche, eh, no ragazzi, dai il sangue, no, un piano, dai, no, basta così, no, ma così è tanto, mi foteva male! Una volta mi hanno addirittura cacciata perché presa dalla parte sono andata a dividerli. Io sono fatta così, mi chiamo Martina Catuzzi, sono una ragazza di Parma e nella vita mi annoio sempre, mi annoio mortalmente. Una delle cose che mi fa più annoiare è dover dare troppe spiegazioni, ecco perché mi piacciono molto le persone sveglie, perspicaci e dovrebbe esserlo di più Graziano, il mio parrucchiere. Allora, ogni volta che vado da lui io gli faccio vedere la foto di Beyoncé perché è così che voglia la messa in piega, io voglio essere Beyoncé e puntualmente esco pettinata come Hillary Clinton. Lui non ce la può fare ma perché è omosessuale, nulla contro i gay, amo i gay, solo che hanno questa presunzione di sentirsi detentori della moda, dello stile. Ma perché? Perché? C'è forse un pulsante nel culo degli uomini che se lo spingi gli aumenta il senso estetico? Non c'è una regola, non c'è una regola, come per la noia. Signori, la noia, si pensa che gli anziani siano più noiosi dei giovani, beh niente di più falso. Gli anziani sono più divertenti, più imprevedibili, cadono dalle scale, ti chiamano con un altro nome, escono di casa e li ritrovi in un bosco a mille chilometri di distanza con la troupe di chi l'ha visto. È divertentissimo! No, invece ci sono ragazze della mia età, ditemi se non è vero, che hanno la passione per le tisane. Ora, dico io, tu baby, sì, ma puoi appassionarti di tisane, ma dove sta il divertimento? Don Mazzi, dov'è la telecamera? Don Mazzi, lascia stare i drogati, che sono persone che sanno come divertirsi, e accogli nella tua comunità le tisano dipendenti. Allora io, ma diciamola Don Mazzi, altro che corona e sollecito, le tisano dipendenti.